Lettini del pronto soccorso usati come veri e propri letti per accogliere un gruppo di senza tetto che sistematicamente si presentano al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona per cercare riparo durante la notte. A segnalare la vicenda è il segretario comunale della Lega di Ferrara Nicola Lodi che dice di essere intervenuto su richiesta del personale dei pazienti. Intervenute le guardie giurate presenti all'ospedale ma per Lodi ultimamente questi episodi capitano spesso. Tutti i giorni con l'ultima corsa del numero 6 dell'autobus arrivano dalle 8 alle 10 persone che si rifugiano dentro al pronto soccorso per cui si lavano, si cambiano e creano abbastanza disagio perché arrivano, molti di questi sono già ubriachi, creano disturbo e c'è anche un problema di dignità per quanto riguarda i pazienti. Creare disturbo quando un paziente sta male in attesa del pronto soccorso è veramente imbarastante. Un altro fatto veramente importante è che quando queste persone vengono allontanate dalla vigilanza fanno il triage per cui si fanno ricoverare, chiedono di essere ricoverate con una lungaggine contro chi è veramente malato per cui capite che la situazione è difficile. Non sono qua e ci tengo a dire, non sono qua a dire cacciamoli fuori, allontaniamoli, sono qua a chiedere una soluzione al direttore sanitario, all'assessore Sapigni. Noi occupiamoci subito di queste persone perché le strutture per alloggiare durante la notte ci sono. Faccio un esempio, Viale Cappa, Villa Albertina, si devono occupare. Proprio questa notte, anche ieri notte, questi personaggi hanno creato non poche situazioni difficili perché litigano fra di loro, vengono, come ho detto prima, in stato di ubriachezza molesta per cui la situazione è veramente difficile. Lodi propone di aprire il punto della Polizia di Stato presente all'ospedale nel passaggio dal pomeriggio alla sera tutti i giorni così gli agenti possono allontanare senza tetto al loro arrivo al pronto soccorso per dirottarli in altre strutture dedicate all'accoglienza dei senza tetto.